Veneto 1 con voi, eventi in agenda. Legata anche al Veneto, legata a Venezia. Lo faremo con l'autore Ettore Beggiato, un Veneto innamorato della sua regione. Presentiamo anche questa ultima sua fatica letteraria che è anche e soprattutto una ricerca storica. Ben ritrovato a Ettore Beggiato. Grazie, saluto a tutti voi. La Repubblica settinsulare, come nasce questo libro? Nasce casualmente, nel senso che un giorno mi sono imbattuto su una moneta con un simbolo strano, questo leone con le sette frecce, e da lì ho incominciato un po' a studiare su questo simbolo. Scoprendo che alle spalle c'era una bella storia, la storia di questa Repubblica libera e indipendente che nasce a Corfu e nelle altre sei isole Ionia nel 1800, dandosi come simbolo, come bandiera, il leone di San Marco. E queste isole avevano terminato da poco, nel 1800, la loro secolare appartenenza alla Serenissima, alla Repubblica Veneziana. E questo è anche il particolare legame tra queste terre e la nostra terra. Certo, un legame che dura secoli e secoli. Pensiamo che a Corfu, la Serenissima, entra nel 1386. Nella terra, la ferma Veneta, per esempio a Vicenza, arriva nel 1404 la dedizione. Quindi sono secoli e secoli di storie comune. Ancora oggi ricordati con orgoglio dai Corfiotti, che ricordano che la loro terra è l'unico lembo di terra greca che non è mai stato occupato dai turchi. E questo per loro è un motivo di grande orgoglio e di grande vanto. Questa Repubblica settinsulare ha molte cose uniche e eccezionali nel percorso storico. Ed era comunque un territorio che negli anni è stato conteso, diciamo, tra Russia, tra Inghilterra e Francia e Napoleone. Sì, è stato molto conteso, nel senso che il ruolo strategico, soprattutto di Corfu, è chiarissimo per chi prende in mano la carta geografica. Da Corfu si controlla il mare adriatico, quello che una volta si chiamava Golfo di Venezia. E quindi nel 1800, dopo il primo periodo francese, c'è la nascita di questa Repubblica con la benedizione sia della Russia, dello Zar, che dell'impero ottomano, quindi di Istanbul, in funzione soprattutto anti-francese e anti-inglese. Ecco, la Repubblica dura appena sette anni. È interessante osservare che è una Repubblica che nasce su base federale, anche questa, perché le sette isole che la compongono, quindi Corfu, Passo, Leucade, Itaca, Cefalonia, Zante e Cerigo, hanno un patto federativo e sono rappresentate dalle sette frecce che sono presenti nel simbolo, nella bandiera. Ecco, lei ha parlato di Corfu, di Itaca, di Cefalonia, di Zante, Zacinto, non ci ricorda Foscolo, sono comunque delle storie, dei luoghi celebrati anche dal punto di vista della letteratura molto legati, insomma, all'Italia. Sono quasi dei territori italiani. Anche se, per la verità, io ho riscontrato questo, che nonostante appunto secoli e secoli di storia comune, ultimamente ci sia stata una dimenticanza notevole, cioè parlando con la gente e anche con gli studiosi, ci si rende conto che non c'è quel ricordo, quella percezione che dovrebbe esserci. Mentre se ci andiamo sul posto, vediamo che la presenza veneta è ancora molto forte in monumenti, nella toponomastica, nella cucina, con i leoni di San Marco. Là si percepisce in maniera concreta ecco questo legame. Ripeto, a Corfu e anche nelle altre isole sono molto orgogliosi di questo loro passato. E perché secondo lei c'è questa dimenticanza, questo oblio, in parte anche dal punto di vista turistico. Noi quando andiamo in Grecia andiamo in altre isole, piuttosto che in queste isole. Ma è una cosa che non è facile spiegare, perché per esempio mentre in Istria e Dalmazia c'è una vicinanza anche geografica, c'è la questione della lingua, mentre nelle sette isole e anche se pensiamo in Peloponese per non parlare di Creta o della stessa Cipro c'è questa lontananza che è un peccato perché, ripeto, invece sono secoli molto interessanti, molto densi, molto fecondi. Io ricordo che anche l'ultima volta che sono andato a Corfu mi sono seduto su una trattoria e c'era una piccola tovalietta nella quale si ricordava l'ultimo assedio a Corfu nel 1716. Per loro è una pagina ancora attuale, ancora viva. Per noi purtroppo è un qualcosa che appartiene al passato. Quindi lo scopo di questo libro è cercare di far conoscere anche questa realtà. E torniamo alla sua analisi storica di questi sette anni, dal 1800 al 1807. Nasce, ce l'ha già detto, come Repubblica di queste sette isole federale. Ma che cosa accade di straordinario in questi sette anni? Beh, di straordinario che Leone e San Marco continuano a sventolare. E non è un caso si sono dati il simbolo sia come continuità ma sia perché Leone e San Marco continuava ad essere una garanzia per tutti coloro che andavano soprattutto per mare. E quindi erano al sicuro da attacchi pirateschi e questo in quell'epoca era molto importante. E poi, ripeto, c'è una continuità che la riscontriamo nella Costituzione. Ci sono questi personaggi che fanno costantemente riferimento alla Repubblica Veneta. Una delle figure più importanti è il conte Giovanni Capodistria nato cittadino veneto a Corfu che studia all'Università di Padova si laurea in legge all'Università di Padova e poi diventa il primo presidente della Repubblica Greca libera e indipendente. Ecco, un personaggio di straordinaria importanza che per conto mio dovrebbe essere rivalutato anche nel Veneto attuale perché pensiamo questo che è legato a doppio filo alla nostra terra e come cittadinanza ma anche come studio e come crescita nella città di Padova. La Repubblica Settinsulare diventa anche un protettorato un protettorato particolare unico nella storia. Esatto. Dopo il 1807 ritornano i francesi si fermano mal digeriti fino al 1815 1815 c'è il congresso di Vienna che non decide a quale potenza assegnarlo. Viene assegnata in un secondo tempo all'Inghilterra e proprio a Corfu e nelle altre isole nasce il protettorato che poi sarà portato come istituto diciamo un po' in giro per tutto il mondo perché i protettorati inglesi tedeschi francesi anche italiani perché la Somalia fu un protettorato. Quindi questo istituto nasce proprio a Corfu ed è interessante che gli inglesi che fondano questa unione delle isole Ionie Stati Uniti delle isole Ionie mantengono nel leone accanto all'Union Jack il leone settinsulare con le sette frecce. quindi il nostro leone di San Marco sventonerà nei mari del Mediterraneo e tutto il mondo fino al 1865. Nel 1865 le sette isole vengono cedute alla Grecia e quindi c'è questa riunificazione diciamo della Grecia moderna. Nel suo libro ci sono anche tanti documenti storici come li ha trovati dove li ha trovati come si è svolta la sua ricerca? La ricerca non è stata facile perché come dicevo prima su questo periodo storico c'è veramente molto poco tanto è vero che a tutti i livelli anche a livelli universitari si sono dimostrati sorpresi di questa ricerca di questo volume di questa repubblica settinsulare e quindi li ho trovati facendo ricerche sui nostri archivi su internet e andando sono andato due o tre volte anche a Corfu e nelle altre isole proprio alla ricerca di documenti ed ho trovato delle testimonianze anche interessanti per esempio è interessante che ancora oggi il simbolo della della cassa di risparmi della camera di commercio di Corfu è il leone e il leone alato con le sette frecce e così pure nello scudetto della squadra di calcio che qualche volta va in serie A qualche volta torna in serie B di Corfu c'è il leone con le sette frecce quindi è ancora una presenza viva moderna diciamo senta quindi una ricerca importante una ricerca anche inedita insomma ha svelato particolari storici dimenticati ma è più difficile fare lo storico ricercatore o il politico? beh è più difficile fare il politico diciamo che però le soddisfazioni che mi danno questa 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 attività questa ricerca sono sono importanti sono notevoli e quindi e quindi c'è più soddisfazione forse almeno da parte mia io sono entrato in politica proprio spinto dalla molla della ricerca storica culturale linguistica e quindi in qualche modo ho continuato questa questa mia questa mia passione ecco anche non facendo più politica senta lei non fa più politica ma insomma è stato consigliere in regione per tanto tempo è stato anche assessore regionale non posso non chiederle il tema caldo di questo periodo riguardo al Veneto che lei insomma ama moltissimo come d'altra parte tutti i Veneti si parla tanto di autonomia del Veneto con questo impasse anche a livello governativo queste divisioni tra Lega e 5 Stelle come lo vede il futuro dell'autonomia del Veneto il futuro dell'autonomia passa inevitabilmente per questa trattativa romana diciamo per questo per questo per questo confronto scontro che c'è attualmente all'interno del governo e su questo io credo che noi tutti i Veneti ma soprattutto il mondo della politica dovrebbe far qualcosa di più dovrebbe farsi sentire di più perché i Veneti hanno nel referendum del 22 ottobre 2017 hanno dimostrato chiaramente da che parte stanno hanno dimostrato chiaramente l'esigenza assoluta di maggiore autonomia e credo che chiunque guardi con attenzione e con onestà intellettuale la nostra terra si renda conto che l'autonomia non è uno sfizio ma è una necessità se vogliamo continuare ad essere protagonisti quindi la battaglia per l'autonomia diventa veramente una battaglia essenziale per tutti per tutti noi per il Veneto per il nostro futuro per i nostri fini senta parallelamente a questo progetto dell'autonomia c'è anche la legge votata praticamente all'unanimità dal consiglio regionale sull'introduzione nelle scuole in tutti i livelli di scuola della storia e della cultura veneta in questo senso insomma c'è anche la speranza che storie anche come questa come quelle che lei fa nei suoi libri non cadano nell'oblio certo ecco c'è da fare una riflessione su tutto questo che il mondo della politica ha recepito l'istanza del territorio io spero che anche il mondo della scuola che adesso deve funzionare da braccio operativo perché adesso la legge c'è perché i finanziamenti ci sono ci vuole un braccio operativo all'interno del mondo della scuola quindi docenti preparati e che abbiano passione della nostra storia del nostro essere veneti io spero che ci siano e che saltino fuori quanto prima c'è ancora tanto da scrivere perché tanto si è scritto sulla storia del Veneto sulla storia della divenenza della Repubblica Serenissima ma c'è ancora molto da scrivere secondo lei o c'è più da studiare? beh entrambe le cose c'è ancora molto da scrivere con direi l'angolatura la visuale giusta perché finora è vero che è stato scritto molto ma un po' troppo dalla parte dei vincitori i vincitori stanno a Roma adesso è necessario scrivere e studiare vedendo la storia dalla parte di Veneti ha già in mente qualche altro libro qualche altra idea qualcosa nel cassetto da più or fuori sogni nel cassetto ce ne sono ce ne sono ancora diversi mi piacerebbe fare qualcosa sul 1848 per esempio che è un periodo di straordinaria intensità e bellezza che anche questo è un periodo poco conosciuto perché tutti parlano delle cinque giornate di Milano che furono cinque qui nel Veneto abbiamo avuto un anno e mezzo di indipendenza quindi dal 22 marzo 1848 al 23 agosto 1849 c'è stata la Repubblica Veneta libera e indipendente un periodo straordinario di riforme di partecipazione popolare che continua ad essere poco conosciuto e quindi se c'è tempo e soprattutto la passione vorrei vorrei scrivere qualcosa anche su questa su questa che per il momento l'ultimo periodo di indipendenza del nostro popolo il tempo a nostra disposizione è terminato io ringrazio Ettore Beggiato per essere stato qui con noi grazie a voi e un saluto a tutti un saluto anche da parte mia e vi ricordo ancora la Repubblica settinsulare questa storia sconosciuta e straordinaria di queste sette isole che adesso fanno parte della Grecia dal 1800 al 1807 l'ultima fatica letteraria di Ettore Beggiato grazie a tutti per l'attenzione e restate sintonizzati sui canali di Radio Veneto 1 Veneto 1 con voi eventi in agenda Grazie a tutti